secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie miseria porca miseria veramente cercati in giusta simone simone scusa damiano è una cosa divertente simone potresti far vedere in chat cioè qui a schermo il video che ho mandato sul gruppo e far sentire anche l'audio e adesso aspetta sì provo vorrei un attimo una cosa scammato un messaggio di vabbè ormai non esciva va bene va bene vabbè quindi non vuoi darci nessuna informazione possiamo passare oltre se mi dici passiamo oltre io volevo pensavo fosse una roba volessi anche tu fare chiarezza su questa cosa tu mi dici no passiamo oltre vabbè ma le chiarezze se fanno in due o in tre secondo me è già un po di chiarezza la parte sì infatti era abbastanza cos'è la morte cerebrale vabbè un po' la morte cerebrale però no ma no ma porco aiuto ci sta no ma tu eri in morte cerebrale purtroppo non sa quello che stia dicendo piccolo conio tutto bene perché ma no ma gli hai appena detto che quello che studia era morte cerebrale chiedi scusa chiedi scusa david scusa 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 scusi scusa insane baby scusa ma schifo ma sì ma sono io un povero venite tutti a play sound che non la sa usare ma qui in realtà è il fatto oh oh rana chi è padre padre rana il padre di rana il padre di rana fantastico fantastico giovanni padre rana ma il tuo cognome per me era matto non mi conosce ancora Diego ok a posto bene allora ciao scusami ci siamo presentati un po' male scusami ci siamo presentati un po' male bestemmia perdonami io cane no scherzo salute salute no no eh eh scusa ma è integrato salve ciao ciao sono maria e minchia allora insieme vi vedo che sei fidanzata così per chiedere eh per un bel pandoro ma che cazzo hai capito sei fidanzata ah sei fidanzata cazzo serpandoro vabbè no per dire vabbè no lo so sei fidanzata no non sono fidanzata ok di dove sei ricordamelo che non me lo ricordo bene allora buonasera a tutti buonasera buonasera di nuovo buonasera martina debora georgia e georgia sedici anni eh attenzione non me ricordo qua lei lei morgana morgana allora io non ho capito perché in questo momento sono cioè richiedi a georgia quanti anni ha per favore georgia quanti anni hai sedici giusto sì ok è una parota sono andata pensavo sesso droga e rock and roll non in questo ordine o in questo momento dicevi scusa sono agitata anche io ma madonna ciao georgia ciao come cazzo cacchi di quanti anni ha tutto bene georgia quanti anni hai sedici ciao georgia cerulei cerume ah cerulei scusate cerulei ah io scusate sono ignorante in materia ok cerulei me lo devo ricordare porca parte no lui sono blu celesti ah lo sai bene i suoi occhi il cuore è vero 5 anni molto influenzati dagli stimoli della nostra della nostra quotidianità della nostra per favore basta non c'ha senso basta basta non c'è nessuna logica andiamo avanti ah david per favore david basta Harry and brother no vedi instagram ci sono io ma hai chiuso la live no no aspetta posso posso sto mouse se daddy è tutto schermo aspetta ok ci siamo mi sentite mi sento litigare ragazzi ci siamo ci siamo ci siamo allora aspetta che mi sono perso ok mettiamo rap beat freestyle facciamo un piccolo test del tempo questo qua è classico vediamo questo qua stai di streamer un attimo però sembra un rapper dai si molto più di me oggi ci vuoi essere a passo con con anime manga devi conoscere attack on titan demon slayer e my martina martina hai tu delle domande da fare a qualcuno di noi in maniera molto tranquilla se te la senti e non voglio metterti a disagio no l'avrei detto io ho una domanda perché è una domanda interessante che a me piace di cui mi oddio oddio che domanda vai 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 no no prego prego fai la domanda avete tatuaggi sì sì madonna io sto pieno porco dio e sono 10 pietrifico sto talis al pelo eh gli ho petrifizzati giusto in tempo